Dopo due anni di pandemia si potrà tornare a far visita ai propri familiari e parenti ricoverati negli ospedali della ASL Toscana Sud-Est. Dal prossimo 10 di marzo e fino alla cessazione dello stato di emergenza, sarà consentito l'accesso dei visitatori nei reparti di degenza tramite verifica del Green Pass. Le visite potranno durare fino ad un massimo di 45 minuti nelle fasce orarie dalle 12.30 alle 13.30 e dalle 18.30 alle 19.30. Attenzione però perché l'accesso sarà consentito ad una persona alla volta soltanto in possesso o del Green Pass cosiddetto rafforzato, cioè con la somministrazione del richiamo booster, o per coloro che hanno completato il primo ciclo vaccinale, quindi prima e seconda dose, o hanno il certificato verde successivo all'avvenuta guarigione da Covid-19. Per queste ultime due categorie l'accesso sarà possibile solo se possono attestare in forma cartacea o digitale l'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti. L'accesso in ospedale per le visite ai parenti non sarà invece garantito per coloro che sono in possesso del cosiddetto Green Pass base, ottenibile cioè soltanto tramite tampone antigenico o molecolare.